Versa in condizioni gravissime, Emilio, il militante del centro sociale d'Ordoni di Cremona, ricoverato ieri all'ospedale Maggiore dopo essere stato aggredito, a detta dei testimoni, con calci, pugni e spranghe. I bollettini medici parlano di coma farmacologico e la prognosi resta altamente riservata. Il 49enne ha riportato fratture multiple al cranio e al viso e edema polmonare. È l'esito dei gravissimi scontri avvenuti ieri all'esterno del centro sociale di Via Mantova che hanno visto contrapposti i militanti di Casa Pound e gli antagonisti cremonesi. Questi ultimi presenti in otto al momento di quella che hanno definito una vera e propria aggressione pianificata parlano di alcune decine di estremisti di destra provenienti anche da altre città, in particolare da Brescia, che avrebbero preso la scusa del derby per cercare lo scontro. Casa Pound con un comunicato rimanda le accuse al mittente. Curiosa che un'aggressione compiuta da noi sia avvenuta di fronte al centro sociale. È evidente che la versione di Casa Pound sia faziosa e vuole coprire quale che è stata una vera e propria aggressione fascista, squadrista, vile ed infame. La giornata è iniziata appunto facendo con i fascisti di Casa Pound che hanno fatto venire con la scusa della partita militanti di Brescia, di Casa Pound fascisti da fuori città. Anche all'interno della curva ci sono state dei diverbi e dei momenti di tensione proprio perché molti ultras che con Casa Pound e con i fascisti non hanno nulla a che fare avevano riconosciuto la presenza di persone allo stadio che con la cremonese non c'entrano nulla. Finita la partita i fascisti hanno aspettato che la gente defluisse, che ci fossero meno persone e poi in 40-50 sono venuti ad assalire il centro sociale. I compagni, avendo visto 40 persone che sono venute ad attaccare il centro sociale, hanno opposto resistenza per difendere lo spazio e difendere se stessi. Emilio, che è il compagno attualmente ferito in gravi condizioni di salute, è caduto e dopo che ha perso i sensi i fascisti hanno continuato a dargli delle sprangate e dei calci in testa. Per riuscire a disperdere le persone si sono dovuti aprire degli estintori, aprire degli estintori per far sì che i fascisti si allontanassero, si riuscisse a recuperare Emilio e si portasse qua dentro, dentro al centro sociale. Non è la prima volta che in città si verificano scontri politici, ma mai di questa portata. Le denunce degli antagonisti non risparmiano le forze dell'ordine che si sarebbero limitate ad identificare gli autori del pestaggio senza misure più restritti. Il questore Vincenzo Rossetto ha innanzitutto ribadito le straneità di quanto è successo rispetto all'ambiente calcistico. Già nella mattinata di domenica il clima si era scaldato con alcuni adesivi di Casa Pound attaccati provocatoriamente sulle porte del Dordoni. Il questore però respinge anche l'ipotesi di un'aggressione premeditata. I disordini che si sono verificati infatti non hanno alcuna attinenza con il tifo calcistico. Abbiamo un ferito grave da una parte e un ferito dall'altra. Le versioni, come lei ha detto, sono molto diverse e direi quasi contrapposte. Il nostro compito è proprio quello di ricostruire i fatti così come si sono verificati e per questo sentiremo diversi testimoni. Abbiamo identificato già un numero notevole di persone. Ripeto, non riteniamo che ci sia stata un'aggressione preordinata con soggetti provenienti da altre città. Massima attenzione poi alla giornata di sabato. Da sabato 24 gennaio è stato convocato un corteo nazionale antifascista qua a Cremona. È una manifestazione che dobbiamo seguire con grandissima attenzione, atteso il clima di tensione che inevitabilmente si è creato con il ferimento.